Continuano senza sosta le ricerche di Roberto Sciarra, il pescarese 42enne che lo scorso sabato si è allontanato da Pineto, dove ha un appartamento estivo. L'uomo, un istruttore di palestra molto noto e figlio dell'ex docente universitario Ezio Sciarra, era a Pineto nella villetta di famiglia per passare le festività pasquali insieme ai genitori. E' scomparso nel nulla, in vano i familiari hanno atteso il suo ritorno ed hanno così deciso di rinunciare la scomparsa. Unica traccia a disposizione dei carabinieri è un fermo immagine da una telecamera di videosorveglianza che lo ritrae con due borsoni in mano. A casa ha lasciato documenti e telefono cellulare. L'uomo appassionato di immersioni, anche se non è un sub-professionista, potrebbe aver deciso di fare qualche immersione a largo della spiaggia di Pineto. Anche per questa ragione le ricerche, oltre che nell'area interna tra Pineto e Roseto, si sono estese anche a largo della costa. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, protezione civile, polizia locale e tanti militari si stanno occupando del caso, oltre alla guardia costiera che sta perlustrando senza sosta le acque del litorale pinetese. Da questa mattina inoltre si sono aggiunte alle ricerche tre squadre della protezione civile Gran Sasso, utili per tappezzare anche l'entroterra. Il Comune Pineto ha diffuso un comunicato sulla pagina Facebook per ritrovare Roberto Sciarra, segnalando anche l'avvenuta attivazione del protocollo operativo per le ricerche delle persone scomparse da parte della Prefettura. Il Comune ha riportato i tratti distintivi dell'insegnante di fitness scomparso dal 20 aprile e come era vestito l'ultima volta che è stato visto. Sciarra è alto 1,82 m, ha i capelli castani di media lunghezza. Al momento dell'allontanamento indossava una tuta genica di colore grigio, non è affetto da particolari patologie e non è sottoposto a cure farmacologiche. Chiunque ne avesse notizie può contattare l'arma dei carabinieri o qualsiasi altra centrale operativa.